Ora passo anche la parola al nostro lead designer che si occupa della veste grafica del videogioco che è una parte integrante del progetto in quanto fa parte di quello che è il processo creativo tra logica, interfaccia e appunto la grafica. Grazie Stefano, io sono Paolo Pialazza, sono argentino, quindi scusate il mio italiano. Sono nato a Buenos Aires dove ho vissuto fino al 2010 e Buenos Aires è città del disegno per l'UNESCO, nominata per l'UNESCO, quindi ci sono molte influenze diverse, dei diversi artisti. Sono andato all'Università di Buenos Aires a studiare disegno e immagini e suono, ma come mi annoiavo, visto che mi annoiavo ho cominciato a lavorare prima come editore, dopo come generalista, dopo come animatore 2D e 3D, fino ad arrivare alla direzione tecnica. Dopo produzione e traduttore simultaneo per documentari e per la tv. Quindi ho avuto un'esperienza ampia e ho lavorato con clienti come Coca-Cola, Chevrolet, Pujol e anche la tv ulandese. Parlerò del disegno e quindi il disegno coinvolge due cose perché c'è un aspetto tecnico e c'è un aspetto creativo. Noi siamo quello che si dice un artista digitale, ma non vuol dire che siamo appiccicati al computer. Infatti ci vuole ricercare dell'ispirazione corretta e quello si trova in posti totalmente diversi. Ci vuole cercare quello che ci piacciono e quello che non ci piacciono anche perché dobbiamo avere la mente aperta, diciamo. Quindi tutto questo ci serve per realizzare il primo periodo di voze. Per esempio qui abbiamo un esempio del nostro gioco, questo è un aereo per il gioco strategico nel quale c'è una descrizione di come deve essere questo mezzo. Noi cominciamo il processo creativo con il periodo di voze in quale vale tutto infatti perché utilizziamo matita, plastilina, origami, qualcosa che serva per mostrare quello che abbiamo noi nella testa agli altri che non possono vedere cosa abbiamo o cosa pensiamo. Una volta che questo è fatto e a loro li piace, passiamo al modello 3D per diventare questo come un oggetto virtuale, con un po' più di realtà. In questo periodo si lavora con le luci, le tristure, tutti gli aspetti fisici, come si muove, eccetera, fino ad arrivare alle immagini finali con la quale ci servono anche diversi materiali come il digital painting, no, la tavoletta grafica e diverse cose. Abbiamo diversi strumenti, come ho detto, tutto quello che è fisico, reale, come le penarelle e tutto. E dopo tutto il software, no? Con la tavoletta grafica e il 3D, una centinaia di programmi che è un po' annoiante di sentire. Io come consiglio, se a voi vi piace questa battuta del disegno, devo dire che ci sono varie chiavi, anche per ripetere questo discorso dell'imprenditoriale, perché ci sono varie chiavi. Una, la prima, è la curiosità. Noi dobbiamo sempre essere avanti, cercare quello che ci piacciono e vedere dentro di noi cosa ci piacciono. Per esempio, qualcuno suona qualche strumento, disegna o qualcosa? Qui? Bene. Quindi ci vuole studiare, quindi forse qui qualcuno mi uccide, ma non solo all'università, no? Perché qualche volta all'università ci insegna le cose che o non ci serve o ci annoia e così, ma la nostra curiosità è quello che importa, no? Tutto quello che possiamo ricercare con gli altri, che possiamo imparare tramite internet o dove sia. Dopo imparare un'altra lingua, perché a me mi ha aiutato tantissimo, con l'italiano no ancora, ma l'inglese, soprattutto perché tutto quello che possiamo trovare nel computer e in internet, soprattutto per imparare qualsiasi cosa, è scritto in inglese, soprattutto. E alla fine affidarsi di noi, no? Perché questo è lo più difficile di tutto. Qualche volta si suona la chitarra e non si fa subito, no? Ci vuole imparare e noi ci vergogniamo ogni tanto di quello che facciamo e non ci vuole fare questo, ci vuole condividere, mostrare alle altre cose che facciamo e aspettare un rapporto di loro e così si prosegue, si cresce, no? Io penso che la vita è un gioco che ci vuole giocare seriamente, no? E quindi così si deve vivere, secondo me.